Musica Nel panificio di Casapulla venivano utilizzate materie prime scadenti, lavorate senza il minimo rispetto delle corrette procedure di conservazione. Un laboratorio dedito all'illecita produzione e vendita del pane non visibile dalla strada, posto in un semi interrato privo di qualsiasi autorizzazione e finito sotto sequestro dopo il blitz dei finanzieri della compagnia di Caserta. Oltre a constatare la presenza di lavoratori in nero, i militari e il personale dell'Asle hanno riscontrato le pessime condizioni igienico-sanitarie in cui veniva svolta l'attività. Pareti annerite da fuligine, tavoli in ferro ricoperti di ruggine, ripiani in legno su cui al momento dell'ispezione si trovavano circa 165 cesti con all'interno la pasta di pane in lievitazione ricoperti di panni anneriti. Non un minimo di polizia nell'intero locale. I finanzieri hanno così denunciato il titolare sottoposto a sequestro circa 400 kg di pane, 4 forni e attrezzature varie.